Un cordiale saluto a tutti da Alex Guarini. Sarà un sabato all'insena del bel tempo su buona parte d'Italia, grazie a una graduale rimonta dell'alta pressione delle azzorre a partire dai settori occidentali, che nel corso della giornata darà luogo a un sensibile miglioramento delle condizioni atmosferiche e c'è un fatto per qualche residuo acquazzone nella prima parte della giornata sulle estreme regioni meridionali. Ma partiamo subito con le temperature, iniziando dai valori minimi, che saranno in lieve calo al nord per via dei cieli più sereni, senza variazione di rilievo invece al centro-sud. Per quanto riguarda invece i valori massimi, questi saranno in rialzo sulle regioni settentrionali e soprattutto su quelle del versante tirrenico, mentre in un lieve calo si potrà registrare sulle regioni del medio-basso versante adriatico per via di correnti più fresche dei quadranti settentrionali. Il dettaglio previsionale riferito alle regioni settentrionali evidenza questa splendida giornata di sole un po' su tutte le regioni, salvo locali acquazzoni o isolati temporali ad evoluzione diurna sugli Alpi centro-occidentali, ma in rapida attenuazione. Per quanto riguarda invece i settori del centro Italia, avremo anche in questo caso cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi fin dal mattino, salvo addensamente ad evoluzione diurna in prossimità dei rilievi, in particolar modo nelle ore pomeridiane, ma in rapido dissolvimento entro la serata. E infine sulle regioni meridionali, come dicevo poc'anzo, avremo residui acquazzoni sulla Sicilia centro-orientale, quindi all'estremo sud, ma in graduale miglioramento, ampie schierite fin dal mattino sul resto del meridione, così come anche sulla Sardegna. Per il momento concluso vi ringrazio per la cortesa attenzione e ci vediamo domani.